Sono Antonino Bentivegna, agente Sogim dal 2014. Per me lavorare in Sogim significa far parte di un'azienda importante che pone i propri collaboratori al centro, gli fa sentire parte di un progetto, esattamente come è successo a me. Per me Sogim è la nuova visione del real estate italiano perché grazie alla sua pluriennale esperienza riesce ad interpretare e ad anticipare le nuove tendenze di mercato ed è sempre un passo avanti. Ma io mi sento la cosa dei Fantastici Quattro, per i più l'uomo roccia. Ti piace l'uomo roccia, vero? Cosa aspetti? Votami ora! We want you!